Penso che dovrete fare un'olazione, quando vedrete questa meraviglia, questo penso si... Piazza delle vergogne, la cattedrale, la piazza della cattedrale, è una meraviglia secondo me ragazzi, la cattedrale di Palermo. Allora vi do esattamente ragazzi dieci minuti per fotografare, abbiamo il tempo contato. Poi comincia la messa, comincia tutto quanto. Allora se io non sono messo qua... Andiamo a vedere che al momento si è già passato giù. Non ti pare che io non me la faccio veramente? No, il film sto facendo. Tu fai il film e Angelo fa la foto. Le due... First lady. Prende.